ciao luca buongiorno a tutti allora prima di dirvi due parole su quello che sarà il film della settimana volevo così ricordare che ci sono stati i davidi di donatello e volevo ricordare che alcuni di film di cui abbiamo parlato qui precedentemente sono stati premiati tra i quali il racconto dei racconti e lo chiamavano giga robò che tra l'altro tornerà in sala con più di 200 copie quindi un'opportunità per chi l'avesse perso e poi parliamo di acqua perché perché il film di questa settimana è i ricordi del fiume di gialluca e massimiliano deserio un film il film è stato presentato alla 72esima mostra il cinema di venezia e racconta un documentario che racconta la storia di una delle più grandi baraccopoli d'europa il platz in questa baraccopoli viveva oltre mille persone di diversa nazionalità e si trovava appunto sugli argini del fiume stura a torino sta baraccopoli è in atto uno sgombero e probabilmente questo documentario sarà l'ultima testimonianza su quella che è stata una città all'interno della città a torino a torino a torino a torino